Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! È un sacco di tempo che non ci vediamo, come sempre, come sempre. Però sto cercando ancora un po' la postazione, non capisco dove mettere sto microfono affinché non stia nelle mie mani e non dia fastidio alle immagini, insomma ci siamo capiti. Però per adesso accontentiamoci di questo, altrimenti il suono della fotocamera fa un po' schifino. Per quanto riguarda invece questo video, non so bene quando verrà pubblicato. Perché non so ancora se voglio pubblicare questo video, non so ancora se mi piacerà ancora questo video il momento in cui deciderò di pubblicarlo. Ma ieri ho scoperto che sono stata accettata al dottorato. Dopo tre lunghi anni in cui questo era diventato praticamente l'unico obiettivo della mia vita. Dopo tre lunghi anni sono stata accettata al dottorato. E sono stata accettata, ovviamente sono stata anche rifiutata da tantissime altre università dove ho mandato l'application quest'anno, come è successo negli anni scorsi. Ma sono stata accettata ben due volte, ben due programmi. Il primo è stato un puro caso. È stato un puro caso, avevo sbagliato a selezionare il programma e loro mi hanno detto Ehi, la tua tesi ci sembra molto interessante ma ci sembra forse più in linea con l'altro programma. Forse hai fatto uno sbaglio. Se per caso non hai fatto uno sbaglio, noi siamo assolutamente felici di accoglierti in questo programma. Io ero tipo, oh my god, che figura di merda. Quindi ho detto sì, effettivamente volevo fare domanda all'altro programma. Quindi il professore è stato gentilissimo, è stato proprio un pezzo di pane questo uomo. Mi ha aiutato tantissimo a fare lo switch, a contattare chi doveva contattare e a rifare diciamo domanda senza dover pagare di nuovo perché solitamente quando si fa domanda in dottorato si paga sempre. E la cosa divertente è stata questa. Quando io ho fatto questo switch, una persona mi ha scritto non era un professore, era forse un dottorando che si occupava di queste cose e mi aveva scritto quest'email, molto passivo-aggressive, che diceva abbiamo notato che nel 2021 tu sei stata rifiutata a questo programma sei sicura di voler fare questa domanda? Il tuo curriculum è migliorato? Io ero tipo, bitch, come ti permetti? Scusami, prima di tutto, cioè nel senso, ok prima di tutto è stato questo professore che mi ha aiutato tantissimo a fare questo switch della domanda è stato lui a incoraggiarmi a fare domanda effettivamente e questa ha l'audacity di dirmi sei sicura? Cioè, hai migliorato il tuo curriculum? Ma come vi permettete? Prima di tutto, cioè, questo è il vostro lavoro? Cioè, nel senso, se io mando una domanda anche se vi faccio schifo, anche se sono stata rifiutata in passato voi avete un po' l'obbligo, diciamo, di analizzare la mia domanda quindi, excuse me sono stata accettata! Vorrei rispondere a quell'email dicendo hello ma detto ciò ieri quando ho ricevuto questa notizia non so più come reagire, nel senso che l'ho detto subito a lui perché era vicino a me e allora tipo, bravissimo, oddio, sono molto fiera di te tutto, ero tipo così Cioè, mi è salita un'ansia ma un'ansia che non vi so spiegare nel senso che questo effettivamente è stato per tre anni il mio obiettivo maggiore io sognavo di andare al dottorato sognavo di dire sto facendo un dottorato sognavo di dire prossimamente dovrete chiamarmi Dr. Doina ma mi è salita un'ansia tremenda l'ho detto a pochissime persone per adesso neanche i miei genitori lo sanno cioè, neanche i miei genitori lo sanno l'ho detto a pochissime persone perché non so ancora come mi sento io ho accettato la missione l'ho accettata mi sono immatricolata, si è chiaro ma non ho neanche dormito ieri notte cioè, ho dormito pochissimo perché mi è proprio salita l'ansia di non essere degna di non essere degna di non essere brava abbastanza di essere stata accettata magari per pietà o robe del genere non lo so mi sono iniziata tipo a rubare nella mia testa tutte queste domande che ho detto oh mio dio Doina smettila letteralmente gli ultimi tre anni le hai passate facendo domande hai iniziato una seconda magistrale per avere magari una chance in più per entrare al dottorato hai fatto una seconda magistrale la sto finendo e adesso sei arrivata al dottorato cioè cosa cosa stai facendo non auto-sabotarti ancora prima di iniziare quindi ho iniziato tipo a avere un po' tipo oh mio dio oh mio dio oh mio dio ma ma cioè vi giuro negli ultimi mesi e l'ho detto a tantissime persone tutti quelli che mi chiedevano del dottorato perché io ho avuto dei rifiuti a partire da marzo in poi ho avuto tutti i miei bellissimi rifiuti e vi dirò l'ultimo rifiuto ho avuto da un'università in Irlanda non è neanche stato un rifiuto per dirmi sei stupida in culo non ti vogliamo è stato proprio un rifiuto dicendo purtroppo non abbiamo una persona che possa occuparsi della tua tesi quindi il mio problema principale quando ho fatto domanda in dottorato è stata la mia tesi era una tesi eh e sarà oh my god sarà una tesi su Tolkien e sull'ambientalismo ovviamente per il programma attuale per il quale sono stata accettata l'ho dovuta un po' cambiare quindi dovrò mettere in mezzo altre cose non solo Tolkien però Tolkien ci sarà quindi ho sempre saputo che il mio problema è stata la mia tesi che diciamo veniva un po' snobbata perché non ci sono esperti di Tolkien che non ci sono persone che possono occuparsi bla 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 però non ho mai voluto cambiare la tesi sono stata così non lo so come dire sono stata così tipo fissa su questa cosa che ho detto so che posso fare un'altra domanda di dottorato con una tesi molto più basico comunque che possa rientrare nelle corde di molti più professori ma non lo volevo non lo volevo e lo so che da una parte è stata anche colpa mia perché magari io sarei stata potuta accettare sarei stata sarei stata no sarei stata accettata al dottorato magari prima se avessi fatto un'altra tesi o se avessi fatto un argomento un po' più conosciuto che vabbè fa molto ridere dire che Tolkien è sconosciuto e si è chiaro però avrei potuto farlo ma non volevo non volevo rinunciare a questa cosa e adesso mi hanno accettata comunque in un programma che è comunque letteratura comparata e in mezzo c'è anche la letteratura canadese giustamente e quindi me l'hanno accettata comunque perché hanno detto sì poi assolutamente io la proposta di tesi l'ho modificata l'ho fatta dire che potrò parlare degli autori canadesi che hanno parlato dell'ambiente insomma abbiamo capito quindi niente quindi questo per dire che sono stata accettata dottorato non so come sentirmi soprattutto contando che uno degli ultimi video che ho fatto è stato il video sul fallimento sulle cose come io in quel video effettivamente facendo quel video era come se mi fossi messa via tutto mi fossi messa via questo obiettivo mi sono detta you know what va bene così ci ho provato per tre anni non è andata non era destino va bene così ci ho provato e sono andata avanti con la mia vita ho lasciato il mio lavoro ho detto adesso comincerò un altro lavoro farò qualcos'altro farò soldi chi se ne frega dell'ossorato e mi arriva questa cosa che si è stata accettata alla fine e vi giuro non so come reagire tuttora anche filmando questo video che è il video il giorno dopo essere stata letteralmente accettata non me la sento ancora di dirlo a tante persone non me la sento ancora di dirlo a tante persone ma la sento di metterlo lì in pubblico perché è come se non mi sembrasse vero come se volessi tenerlo ancora per me quindi se questo video verrà mai pubblicato è perché l'ho detto a più persone magari ho anche cominciato già il dottorato e quindi me la sono sentita di dirlo ma ho tanta paura 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 di non essere all'altezza ho tanta paura di iniziare magari odiare il dottorato e dire magari cazzo negli ultimi anni avrei potuto fare tante altre cose invece mi sono fissata sul dottorato e invece alla fine non lo so oppure potrebbe andare benissimo potrebbe andare una meraviglia finisco il dottorato e anche se magari non finisco per insegnare all'università o fare qualcosa inerente all'università è un obiettivo che ho raggiunto e che probabilmente sarò felice di averlo fatto ovviamente dico mi sento vecchia perché giustamente quest'anno faccio 31 anni quindi quando finirò il dottorato se finirò nei tempi previsti avrò 34 anni e it's a big deal it's a big deal e come ho detto già ho lasciato il mio lavoro ma il mio lavoro mi ha anche detto se hai bisogno di tornare qui non farti problemi sono stati molto carini in realtà ma questa è un'altra storia e niente quindi se qualcuno tra di voi sta facendo un dottorato o ha fatto un dottorato o sta iniziando un dottorato o se ha raggiunto un obiettivo per il quale vi è partita così tanta paura proprio perché è un obiettivo al quale tenete tanto per favore lasciatemi un commento fatemi sapere la vostra esperienza fatemi sapere come avete gestito la cosa come state gestendo la cosa come gestireste la cosa perché comunque i consigli sono sempre ben accetti in tutto ciò spero che questo video veda la luce perché sono molto felice oggi sono veramente molto felice per questa cosa ho paura sì ma sono molto molto felice come se la mia vita iniziasse veramente a ritornare in equilibrio dopo tantissimi anni soprattutto dopo questi anni di pandemia dal 2020 in poi sono successe tantissime cose tantissime brutte cose anche che mi hanno tolto molta energia molta voglia di fare quindi è da ieri che mi sento come una bambina non lo so come dire una bambina che sta arrivando il Natale quindi oh my god però da un'altra parte ho tanto paura e ho paura di deludere qualcuno ma allo stesso tempo ho paura di deludere me stessa ma poi mi dico hai già fatto tre laure Doina hai già fatto tre laure questa non può essere peggio sì sarà peggio sarà più lavoro sarà assolutamente peggio però era ciò che volevo era ciò che volevo da tanti anni e non riesco a crederci che a settembre del 2023 dopo che nel settembre del 2020 ho fatto la mia prima application al dottorato inizierò ufficialmente il dottorato e niente ci tenevo veramente tanto a condividere questa notizia per la quale sono molto felice e spero che vada bene e se non andrà bene va bene lo stesso è stato comunque comunque è stato ha fatto bene al mio ego quando sono stata accettata al programma per puro caso all'altro e quello sbagliato e poi sono stata accettata anche a questo ho detto wow due programmi così e niente finisco il video qua per non evitare di farlo troppo lungo noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao